chiedete scusa a Stefano Pioni che prepara una partita contro un signor allenatore come Suisse come Luis Enrique clamorosa un Milan bellissimo e un donna roma che fa sembrare le ha un fenomeno quando comunque è un giocatore normalissimo perché paperum è tornato comunque comunque dopo ci arriveremo torniamo un attimo a i pioli out dove siete finiti come volevate la testa di pioli qua la e pioli oggi vince e riapre una qualificazione ormai persa chiedete scusa a pioli perché si troppo troppo chiacchierone perché un conto pioli giocasse come allegri e posso capire questo regà ha uno dei calci più europei della serie A ma come si fa a criticare Stefano pioli e oggi e oggi riapre tutto e oggi riapre tutto e i piolini out adesso siamo sul carro se siamo sul carro e dei pagliacci comunque a parte questo perché veramente ne ho visti poi solo web e pioli la testa la testa adesso vai a baciare il culo a pioli pagliaccio comunque 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 parliamo parliamo di questa partita e le ha o fa una buona partita anche se per me a parte il gol che gli ha regalato paperumma io ripeto continuano a vederlo sto gran fenomeno continuano a vederlo sto gran fenomeno e Dembélé oggi ha giocato cento volte meglio di Leao cioè traversa dribbling su dribbling cioè vabbè gol di Leao dove è sciatta paperumma non puoi prendere un gol del genere ma non puoi ma non puoi prendere poi tutto storto la presa e tu hai preso gol ma sei scandaloso sei proprio paperumma comunque comunque il Milan vince il Milan convince il Milan e riapre la qualificazione e ripeto chiedete scusa a Pioli perché Pioli oggi Pioli oggi vi dà una speranza per andare avanti in Champions solo Pioli perché prepara una partita perfetta scrivete nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale bacione dal doc fino alla fine forza Juventus e chiedete scusa a Pioli Grazie a tutti